I messaggi che deve mandare lo sport sono proprio quelli di legalità, di etica, di condivisione e quindi la condivisione comporta per forza anche la legalità perché senza queste due forze che si abbracciano non ci sarà mai uno sport pulito uno sport anche bello da seguire. La legalità in un certo senso è il fulcro io credo di essere stato, di aver giocato per tantissimi anni ma se non avessi condiviso un certo comportamento, un certo grado di legalità probabilmente non avrei potuto fare con lo sport e in un certo senso è quello che lega sport e i personaggi che siamo qui a ricordare in questa giornata. Bene, oggi ti vedremo in campo? No, io oggi lavoro. Ah, ok. Eh sì, perché il mio Milan in un certo senso anche se io continuo a ricordare che sono un tifoso del Varese da quando sono nato, però il mio Milan potrebbe in qualche maniera, oggi naturalmente non riguarda il mio Milan ma io faccio parte di un... devo seguire tutto il campionato e quindi oggi sarò negli studi Sky nel pomeriggio e non potrò essere qua. Ma forse è meglio così, sono un po' invecchiato, i muscoli cedono. Grazie. Veda, l'hai contributo questa mattina. Sì, sì, assolutamente. Grazie.